Difficile ricordare dopo tanti mesi di ansia e di notizie di cronaca che si sono affastellate incessantemente giorno dopo giorno, quando e dove l'ho iniziata o se ne è avuta una percezione realistica, l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid. È comunque un anno circa che se ne affrontano le conseguenze. Lei nel ruolo che occupa, quando ha avuto percezione della gravità di quello che stava avvenendo? Io ho cominciato a comprenderlo verso la fine di febbraio, quando appunto siamo a un anno dal primo pullman che si era fermata a Seravalle con una signora che veniva appunto una terrorista cinese e che aveva sintomi da febbre, si era riportata al pronto soccorso e da lì si è incominciato a parlare di possibilità di aver contratto il Covid. E quindi quello che ci sembrava così lontano, così impossibile da avere anche nel nostro territorio, hanno cominciato a prendere forza e via via soprattutto a partire direi dal 6 di marzo, una data ben precisa perché è incominciato il momento dei ricoveri del Covid. Ricordo a tutti che in quel momento non c'era il tracciamento, non c'era il tamponamento, quindi eravamo in una fase totalmente tutta da prendere atto e soprattutto da rendersi conto di cosa poter fare e come fare. Se dopo un anno ci resta la prospettiva di uscire dall'emergenza grazie ai vaccini, senza altro la battaglia contro il virus è ancora in buona parte da combattere. È in incremento sia per quanto riguarda i contagi sul territorio, sia per quanto riguarda la pressione sull'ospedale e questo non soltanto nella provincia di Pistuia, ma i dati ormai anche a livello regionale e nazionale ci dicono che è un momento un pochino più complesso e complicato. Ritengo che la possibilità di scollinare finalmente, usando un termine ciclistico, e di iniziare a vedere la discesa non può essere altro che una vaccinazione il più largamente diffusa, ovviamente sempre per chi la può fare e per chi la può fare. Una vaccinazione che serve non soltanto per tutelare la salute della singola persona, ma serve anche per rallentare la possibilità di variazione e di mutazione del virus, quindi indispensabile accelerare su questo.